Ciao, qual è la filosofia di questo negozio? La crema di carciofi, altre cose così le vendiamo confezionate, invece tutto quello che possiamo vendere sfuso, ad esempio la farina di grano, in Italia non può essere venduta sfusa per legge e quindi la dobbiamo vendere confezionata, invece tutto il resto cerchiamo di venderlo sfuso. La filosofia è quella di evitare quanto più possibile lo spreco di inquinamento dovuto alla plastica. I principi problemi che facevano quando cercano di vendere questo negozio? I prodotti non si rovinano, come vedi qui insomma teniamo sempre l'umidità, ora con il caldo che fa fuori qui c'è un'umidità bassissima, una temperatura bassa perché la maggior parte dei prodotti sono biologici, in più sono sfusi quindi bisogna stare molto attenti che non ci sia lo sviluppo di non solo di batteri ma anche semplicemente dei vermettini che poi fanno le farfalle eccetera. Quindi la sfida è quella di dare al cliente un prodotto sano, genuino e senza impacchettamento, senza plastica. Forza e coraggio nel senso che dipende poi dal paese dell'Unione Europea, dal momento anche insomma non è che in Europa sto vivendo un momento eccezionale dal punto di vista economico, quindi forza e coraggio. Secondo me la filosofia del biologico e quella dei rifiuti zero, dello zero waste stanno crescendo molto, quindi il margine c'è ancora molto per crescere e spero che si sviluppi ancora di più. Io ho aperto un negozio da due anni quindi ne sono assolutamente convinto e chi lo vuole fare ben venga. Rivolgetevi a produttori locali, cercate di rimanere più possibili sul territorio così che potete andare a visitare le aziende, conoscere il produttore e possibilmente come succede a noi con le verdure, con i formaggi, con altre cose, viene il produttore qui, ti porta le cose, si ferma dieci minuti a chiacchiera quando c'è il cliente, lo conosce, gli fa delle domande. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. tutto, ci sono negozi, un ristorante, negozi di vestiti dove aggiustano e rivendono i rifiuti, la spazzatura, e quindi alla fine dopo tanti tentennamenti, perché comunque la mia formazione, io sono laureato in simbologia del cinema, ho fatto il giornalista, ho fatto tutte altre cose, quindi aprire un negozio per me era una cosa totalmente nuova, diventare un commerciante era una cosa totalmente nuova, ma alla fine mi sono lanciato e sono molto contento perché mi piace scoprire e sapere quello che mangio poi. E perché è così importante produrre meno packaging, meno waste? Beh, evidentemente come quello che vi facevo dire, ormai ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo, ora le ultime sono le microplastiche nel mare, anche un pesce su quattro ci sono le microplastiche, è una cosa pazzesca, cioè la plastica serve, la plastica è una cosa che c'è di aiuto in tantissime cose, se ne fa un uso smodato, una cosa pazzesca, in Italia nei supermercati c'è una quantità di plastica inutile che non viene smaltita, che non viene riciclata, quella che viene riciclata a volte viene riciclata male, a volte finisce in discarica. E per il futuro nostro, non da qui a vent'anni, ma da qui a tanti anni, io ho due figli e penso ai loro nipoti e a quelli dopo, bisogna smettere di consumare così tanta plastica. Sì, sì, perché vedo moltissimi dei clienti che avvengono in questo negozio sono giovani, la maggior parte, e dall'altra parte ci sono persone più grandi, più anziane, che entrano e capiscono il concetto e imparano e qualcuno inizia anche a sperimentare cose che non avevano mai pensato, tipo lo shampoo solido o il deodorante solido, cose che hanno solo un involucro di carta, e iniziano e sono contenti, quindi sì, ho speranze per il futuro, soprattutto per i giovani, devo dire che mi sembrano molto più attenti di come eravamo noi alla loro età. Super, ok, grazie molto.